Papà di Origini Teatine, il ritorno a Chieti per un concerto e il messaggio che volete mandare agli amici di Chieti? Agli amici di Chieti vogliamo dire che vogliamo loro un bene pazzesco perché noi abbiamo passato tantissimi estati qua, non a Chieti ma in generale in Abruzzo, l'abbiamo un po' aggirato, siamo stati anche nel Parco Nazionale, a Chieti, a Chieti vecchia, insomma tantissime volte siamo tornate, venute, passato Natali, estati, quindi fa parte della nostra cultura l'Abruzzo non soltanto ma anche della nostra infanzia, quindi è sempre bellissimo tornare in questa terra che è forte e gentile. Possiamo dire da Vamos a ballare a festa totale sarà spettacolo questa sera? Ma guarda non vediamo l'ora perché noi sul palco come sempre portiamo la nostra storia attraverso le canzoni, quindi siamo felicissime di fare sia quelle di un tempo diciamo di qualche anno fa sia quelle di adesso che comunque piacciono altrettanto quindi ci sentiamo veramente felici per questo bel momento di successo che ancora stiamo vivendo. Un saluto di Paola e Chiara agli amici di Reteotto. Un bacio grandissimo agli amici di Reteotto da Paola e da Chiara. Ciao!